un minuto con padre pio dai luoghi del convento di san giovanni rotondo oggi siamo qui nel coro del crocifisso cosiddetto delle stimmate perché proprio qui il 20 settembre del 1918 in questo luogo padre pio era seduto al posto del guardiano era solo in convento il 20 settembre quella giornata lui ricevette le stimmate come lo racconta al suo padre provinciale in quella lettera del 22 ottobre del 1918 lui racconta la crocifissione padre benedetto poi dopo vuole visitarlo vuole controllare vuole capire e racconta scrive soprattutto vado sul virgolettato in lui non sono macchie o impronte ma sono vere piaghe perforanti le mani e i piedi io poi gli osservai quella del costato un vero e proprio squarcio il venerdì è sangue lo trovai che si reggeva stento in piedi ma lo lasciai che poteva celebrare quindi quando dice messa il dono ovvero le stimmate è esposto al pubblico dovendo tenere le mani alzate nude sì la croce ora è issata sul monte e ad essa è confitto padre pio ognuno può vedere e osservare in quel momento dio padre mostra al mondo in questo suo servo fedele dell'immagine del suo figlio gesù nina campanile avanzò un'ipotesi secondo la quale la cessazione della guerra del 15 18 si deve attribuire alla stimmatizzazione di padre pio infatti dice che il 20 di settembre il padre ha ricevuto le stimmate il 4 di novembre con l'armistizio è avvenuta la cessazione della guerra ecco su che cosa basa la sua affermazione papa benedetto quindicesimo con motu proprio quartus iam annus indiceva una messa propiziatrice proprio per la pace nella festa dei santi pietro e paolo del 1918 padre pio in una lettera indirizzata proprio a padre benedetto il 27 luglio del 2018 prima descrive il fenomeno mistico avvenuto tra terrore scuotimento e calma poi scrive durante questo avvenimento io ebbi tempo di offrirmi tutto intero al signore per lo stesso fine che aveva il santo padre nel raccomandare alla chiesa intera l'offerta delle preghiere e dei sacrifici e non appena io ebbi finito di fare tutto ciò mi sentì piombare in questa sì dura prigione e sentì tutto il fragore della porta di questa prigione che mi rinchiudeva dentro mi sentì stretto da durissimi ceppi mi sentì subito di venir meno alla vita da quel momento mi sento all'inferno senza alcuna sosta nemmeno per un istante sappiamo che padre pio consegnava nina campanile tutta la sua corrispondenza da spedire ai padri spirituali e sappiamo anche che questa lettera padre pio l'ha consegnata aperta a nina e nina ha potuto leggere qualche giorno dopo proprio padre pio riaprì l'argomento e nina gli chiese ma padre voi la conoscete l'intenzione del papa e lui disse sì è per la cessazione della guerra